Un intervento di disinfestazione e indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare. Sono questi i passi dell'amministrazione comunale di Piantedo dopo che è stata comunicata da parte di ATS della Montagna la positività al virus Western Isle riscontrata proprio in un insetto catturato entro i confini comunali. Il risultato viene segnalato dall'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna. Il principale vettore del virus è la zanzara comune e sebbene l'infezione da Western Isle ricorre in maniera asintomatica nella maggior parte dei casi, nelle categorie a rischio che includono persone anziane e persone affette da alcune patologie croniche l'infezione può manifestarsi con sintomi severi. Le indicazioni dell'ATS della Montagna al comune di Piantedo sono quelle di effettuare una bonifica straordinaria dell'area e comunicare ai cittadini le misure preventive da adottare per contribuire alla corretta gestione del territorio oltre che porre in atto le comuni misure per prevenire le punture di zanzare e ridurre la diffusione delle stesse negli ambienti. Ci stiamo attivando per procedere a una disinfestazione delle zanzare, spiega il sindaco di Piantedo Fabiana Pinoli e abbiamo emesso un'ordinanza rivolta alla popolazione. Nessun allarmismo ovviamente, ma è giusto mettere in atto le procedure previste in casi come questi a tutela degli abitanti. A questo proposito, il comune ha ribadito le indicazioni da adottare per limitare la diffusione delle zanzare fornite da ATS a fine maggio scorso, che vanno da allevitare la formazione di acqua stagnante al taglio periodico dell'erba nei centri abitati.